Exor Actics, benvenuti! Oggi siamo qui a presentarvi questo nuovo nostro avvento. Si tratta di Seatateca 1500 con 150 cavalli in allestimento FR, allestimento di foglio. La troviamo in questa bellissima collazione bianca, cerchi in lega da 19 pollici. Come possiamo notare nella parte frontale troviamo anche il sensore del parcheggio. Passando invece verso la parte posteriore, notiamo che la vettura è una lunga, circa 4,30 metri. Parte posteriore sensori di parcheggio. Capienza del bagagliaio molto ampia, parliamo di circa 500 litri di capienza. Battendo le sedute posteriore arriviamo anche a 1600 litri. Passiamo all'interno dell'abitacolo, possiamo notare questi bellissimi interno di tessuto con sedute schienale in alcantara. Attacchi Isofix sulle sedute principali, qui dietro abbiamo le bocchettine dell'aria condizionata e anche delle prese USB che possono utilizzare. Seduta molto molto confortevole, quindi sicuramente vettura adatta a lunghi tragitti, una vettura familiare quindi che ha anche famiglia, ha bisogno di più spazio, questa è un'auto perfetta per loro. Anche qui troviamo veramente, come dicevo, molto comfort. Sul nostro volante abbiamo tutto quello che riguarda il comando vocale e la gestione appunto dell'infotainment che può essere gestita anche tramite questo fantastico schermo. E cosa importante, cambio automatico sequenziale con paletta al volante, quindi per rendere ancora un po' più sportiva la guida. Qui troviamo invece un altro selettore che ci permette appunto di impostare le diverse modalità di guida, prendere il stazionamento elettronico, altre prese USB e porta oggetti e porta bevande per maggiore comfort. Ok. Questa è in particolare a giugno del 2020, attualmente a soli 35.600 km. Questa, come tantissime altre nostre offerte, le potete trovare sul nostro sito rattix.com